Amore bella mia, amore bella mia, c'è l'infinito... Rosalia, Rosalia! Mi metti a capire per me! Tutto Giuseppe mio, chi c'è fu? Ma sento c'è pure i mascoli! Ma che c'è pure i mascoli? Questi sono i pittinicchi che hanno messo il nostro cuore! No, sento c'è pure i mascoli! E la cittuzzo, veniste per stare attento! Ma con la cittuzza cittuzzo, Tutto Giuseppe, chi su saccio fu una città di malaugurio? Io, femmina onesta e fedelissima sono! Ma... E sto scruscio per cosa vuoi? Ma le scruscio, questi sui muratori la segnalano l'acqua, ma ci sono con sanno quante! E chi ci serve? Non mi fa pregare un uomo! Eh... Rosalia! Ha scomodato il cuore! Lo sa! Io e il padre! Perché c'era il padre del gimnese! I piccoli! Vennero tutti! E se è un uomo con uomo cospedale! Non solo! E come dici mi sta facendo pure acido! Perciò... Vi devi comportare del buono! Perché se no! Non cacciai la testa di cemento i piedi! E non cacciai i piedi di cemento a testa! Capiste? Ne li puoi! Ho journeysi non esena! Io con Bucchi sta ficcare! E dice madre! La torla! Ma si non lo vuoi inadellare! Torna! Questa casa spetta a te! Ver navigo! Ma sono già scamb ini! Vi scambi guardi tu! E RUC Egyptipsini! la bucchi! La Bucchi! E giud приз facilitare? Non c'è il mio, non c'è il vento, no! Non c'è il mio! Oddio, non c'è il mio! Vento, non c'è il mio! Vento, 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 vento da magico! Non c'è il mio, non c'è il mio! Sapir with a croce! Redita di lei! Redita di lei! Redita di lei! Redita di lei! Che è questo? Perfetto! I fuori, ho street! Fai dove si chiama? ma non c'è un bel porcato un bel porcato e su vi basta che cos'è? che che cos'è Donuccio? non è come tu pensi e che è? come succede? come succede Donuccio? capire questa fotografia? capire? se avevo, sognoio tu devi sapere che nella solitudine nelle fredde notti d'inverno io scendevo l'olietto e tenevo a giocare io tagliavo a te e tu tagliavo a mia tu tagliavo a mia e io tagliavo a te e resta concinta e tu come lo stai fatta capire? che con la fotografia succesi sto mirando ma che sono più scepolito? che la fotografia sana non posso capire ma non la fotografia nello posto grazie 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 grazie